Buongiorno, oggi è mercoledì ed è il 15 novembre del 2017 ed è il primo video sulla macchina nuova e voglio ringraziare Dio e delle persone speciali, scriverò qualcosa più tardi quando rientrerò a casa per ringraziare Dio e ringraziare appunto queste persone per come si sono prodigate affinché questo miracolo potesse avvenire, Dio sicuramente si serve di persone, Dio si serve di uomini quindi vogliamo ringraziare prima di tutto Dio e poi subito dopo le persone di cui lui si è servito quindi grazie a Dio per questo. Vorrei parlarvi di un argomento che mi sta molto a cuore che è naturalmente il regno di Dio ed è qualcosa su cui lo Spirito Santo in quest'ultimo periodo sta parlando al mio cuore e voglio condividere con voi brevemente per quanto riguarda la figura di Gesù nel regno di Dio, la sua funzione nel regno di Dio e come noi dobbiamo interagire con la persona di Gesù nel regno di Dio. Uno degli errori fondamentali che abbiamo fatto fino ad oggi è quello di pensare che Gesù fosse il regno, mentre Gesù non è il regno in se stesso, lui è il re, lui è il re di un regno eterno e in alcune parabole in Matteo 13 abbiamo già parlato di questo argomento, Gesù parla del regno di Dio come un tesoro nascosto o di una perla di gran valore. Abbiamo sempre ricevuto insegnamenti che Gesù è il tesoro nascosto, che Gesù è la perla di gran valore. Gesù quando parlava di questo non parlava di se stesso, Gesù parlava del regno. Il regno di Dio è come un tesoro nascosto, il regno di Dio è come una perla di gran valore. Gesù parla di se stesso e in Giovanni X lui fa un'affermazione molto importante, lui dice io sono la porta e sono la porta delle pecore. Uno degli errori più grandi che valutavo qualche giorno fa è il fatto che noi abbiamo considerato che Gesù fosse la porta per andare in cielo e che quindi noi abbiamo pensato che quella porta si aprisse davanti a noi nel momento in cui noi moriamo. Noi moriamo, Gesù è la porta e noi passiamo attraverso la porta per andare in cielo, per andare in paradiso. In realtà nel Vangelo viene espresso un altro concetto totalmente diverso. Gesù è la porta per accedere al regno e l'errore fondamentale più grande che abbiamo fatto è che siamo stati davanti alla porta, abbiamo adorato la porta ma non siamo entrati. Abbiamo adorato la porta aspettando che quella porta si aprisse dopo la nostra morte ma come abbiamo detto spesso il regno di Dio non è un assegno post datato, non è un assegno dove c'è la data della tua morte. Noi non avremo bisogno del regno di Dio quando moriremo perché noi abbiamo bisogno del regno di Dio cioè della sua manifestazione qui ed ora mentre siamo vivi su questa terra. Questo è il motivo per il quale Gesù ci ha detto quando pregate, pregate così, venga il tuo regno o il tuo regno si manifesti e sia fatta affinché sia fatta la tua volontà qui sulla terra, qui ed ora come è fatta nel cielo. Il nostro modello è il cielo quindi Gesù sta dicendo non hai bisogno di andare in cielo per vedere la volontà di Dio, la volontà del padre e tutto ciò che il regno rappresenta per non hai bisogno di morire per vederlo adempiuto ma Gesù ha detto se tu hai fede e credi il regno di Dio si può manifestare qui ed ora, questa è la volontà di Dio e l'incoraggiamento appunto di questo video è Gesù è la porta, Gesù è la porta, Gesù è il nostro accesso al padre. Vi ricordate Gesù quando dice io sono la via, la verità e la vita nessuno viene al padre se non per mezzo di me. Abbiamo sempre creduto che quello fosse un messaggio che ci parlasse di salvezza, cioè che ci parlasse, in realtà parla della salvezza ma non come viene intesa a livello religioso, cioè non l'accesso al padre dopo la morte. Infatti la figura dominante nel regno di Dio come Gesù la insegna, come Gesù la spiega è la figura del padre. Vi ricordate in Matteo 6, 30 quando Gesù dice perché siete in ansietà? riguardo al vestire, al mangiare, al bere, al vestire, dice voi siete, non fate come i pagani, i pagani ricercano queste cose ma il padre vostro sa che avete bisogno di queste cose, in Matteo 6, 32 scusate, subito dopo dice ma cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sovraggiunte. È come se ieri sono andato a prendere questa macchina in una concessionaria ed era lì, il padre me l'aveva promesso, è lì dentro, quello di cui hai bisogno è lì dentro e io non dovevo rimanere davanti alla porta a ringraziare Dio, ad adorare Dio, io dovevo entrare attraverso quella porta di quel concessionario per prendere ciò che mi era stato promesso e noi molto spesso come credenti abbiamo vissuto e molti credenti vivono davanti alla porta, mentre la benedizione di cui stiamo aspettando e che stiamo anelando, di cui abbiamo bisogno è nel regno, non è alla porta, la porta ci garantisce un accesso al regno ed è così fondamentale non stare davanti alla porta, Gesù è la porta attraverso la quale possiamo passare, chi entra attraverso di me troverà pastura, chi entra ed esce attraverso di me troverà pastura, questo è un concetto bellissimo, Gesù è la porta, è il nostro accesso al regno di Dio e dalla quale porta noi possiamo uscire per portare il Vangelo del Regno ad ogni persona che vive su questa terra. voglio incoraggiarti, tutto quello di cui hai bisogno non è in Gesù, è nel regno, Gesù è la porta che ci porta al regno, ecco perché dice Gesù chi crede in me farà anche egli, le opere che faccio io ne farà di maggiori, Gesù è la porta attraverso il quale dobbiamo entrare nel regno per godere di tutti i benefici di questo regno, perché? Perché siamo stati creati per regnare, siamo stati creati per non avere mancanze, siamo stati creati per non avere ansia, siamo stati creati per rappresentare Dio su questa terra, quindi voglio incoraggiarti a non stare davanti alla porta ad adorare, entra attraverso la porta perché la porta esiste per essere aperta e per essere attraversata. Ti voglio benedire questa vostra giornata e dichiarare che in questo giorno a benedizione i benefici del regno dice la Bibbia siamo stati benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù ed è lì nel regno attraverso Cristo abbiamo accesso tutto quello di cui abbiamo bisogno per vivere una vita degna di essere vissuta, degna di questo nome e abbiamo la possibilità di poter benedire tante altre persone e incoraggiarli a vivere per com'è il padre desidera che queste persone, che i suoi figli vivano. Una buona giornata, a stasera saremo a Palermo alle 20.30 inizierà la diretta. Una buona giornata a tutti quanti!